Sembra tutto come sempre nel quartiere dell'Unione, ma guardando con attenzione si possono notare un certo numero di persone che si arrampicano su e giù per il nuovo edificio del Consiglio europeo dal valore di 312 milioni di euro. Gli attivisti di Greenpeace si sono calati dalle finestre, facendo rumore con delle sirene, per ricordare ai leader europei l'emergenza climatica. A pochi metri di distanza l'ONG Our Fish ha ricordato ai leader dell'Unione di sostenere l'oceano nel nuovo Green Deal europeo e di porre fine alla pesca eccessiva entro il 2020. Siamo lieti che l'Unione abbia assunto con il Green Deal grandi impegni in termini di ambizione, ma dobbiamo garantire che l'oceano sia al centro del nuovo patto europeo perché l'oceano sostiene tutta la vita sul pianeta. Una giornata impegnativa per il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che sembra aver preso in considerazione il messaggio degli attivisti. Il cambiamento climatico è la priorità numero uno in questo incontro pomeridiano. Spero che troveremo un accordo. La neutralità climatica è un obiettivo molto importante. Per il futuro dell'Europa investiremo di più in innovazione e ricerca. Tuttavia l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica cieca chiedono che ulteriori finanziamenti e energia nucleare facciano parte del dibattito sul clima. Se vogliamo raggiungere la neutralità del carbonio, dobbiamo capire che ogni Stato membro ha diverse fonti energetiche e per raggiungere questa neutralità ha costi diversi. Per quanto riguarda la Repubblica cieca, sarà forse intorno ai 30-40 miliardi di euro. Mentre Charles Michel attende i suoi colleghi leader per discutere sul Green Deal europeo e sul futuro bilancio dell'Unione, gli agricoltori della Lituania suonano musica tradizionale per chiedere retribuzioni migliori, insieme a Greenpeace e a Warfish, sperando che i leader ascoltino la voce delle persone. «Promport! Promport! 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 Promport!»